Nome? Mattia. Cognome? Mollinari. Data di nascita? 19 aprile 2005. Numero di maglia? 20. Quando hai iniziato a giocare a basket? Era prima elementare, 6 anni. Dove? Qua, era basket sole. Grazie a chi? Carlo Danani. Hai un rito prima di entrare in campo? Nessuno. Che scarpe indossi? Nike Sabrina. Preferisci la schiacciata o un tiro da 3? Schiacciata tutta la vita. Hamburger o pizza? Pizza. Che qualità ruberesti a coach Bazzur? Palleggio tutta la vita. Cosa fa arrabbiare coach Bernini? Tutto. Compagno che già ha allenato coach Salvemini? Wishire. Quale compagno ha giocato con Procida e Spagnolo? Manenti. Calcio o Volley? Calcio. Cinema o teatro? Cinema. Libro o uscita con gli amici? Uscita con gli amici. Tre cose che porteressi su un'isola deserta? Una palla da basket, il telefono e la play. Il compagno più simpatico dello spogliatoio? Tac. Cosa ti fa innervosire nella vita di tutti i giorni? Moltissime cose. Besedic ha già giocato in Italia e se sì dove? Sì, ha già giocato in Italia, cos'è la serie C mi sa. Lo scherzo che hai fatto o che hai subito nello spogliatoio? Oddio. Ho nascosto spesso le scarpe a Pietro. Pisarei e fasò o gnocco fritto? Gnocco fritto. Il sogno del cassetto? Giocare al più alto livello possibile. Compra da questo detto? Fatto 30? Fai 31.